Ciao e bentornata in questo nuovo video, è tantissimo tempo che non vi propongo una recensione di un film o una serie tv semplicemente perché negli ultimi mesi ho visto dei film e delle serie tv però non mi avevano colpito particolarmente mentre nell'ultimo periodo ho visto questo film che mi è piaciuto tantissimo, si chiama Un'ombra negli occhi ed è incentrato nel periodo della seconda guerra mondiale, racconta un po' la guerra vista negli occhi dei bambini ma soprattutto racconta una storia vera, ossia di quando una scuola gestita da delle suore è stato bombardato per errore quindi mostra un po' le vicissitudini di questi bambini che hanno dovuto affrontare così da vicino la guerra è un film non particolarmente felice ovviamente, visto l'argomento soprattutto nell'ultimo periodo però è un film fatto molto molto bene che vi volevo consigliare ovviamente se l'avete già visto fatemi sapere cosa ne pensate e se lo andrete a vedere dopo aver visto questo video fatemi lo stesso sapere cosa ne pensate e se vi è piaciuto soprattutto io per il momento vi saluto, spero di avervi consigliato un film che possa piacervi e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, ciao! 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 Ciao!